Musica 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 Deci 100, inversione destra al specchio 50, sinistra piena 100, sinistra piena 50, destra 2 in sinistra 1 per sinistra piena 50, destra 5 lunga, chiude poco chiude poco per sinistra piena 50, molta attenzione, sinistra piena invariante sinistra 2, per destra 2 in fondo là dove c'è la gente sinistra 2, per destra 2 per sinistra piena 50, destra piena 50, fine 7, destra 90 esce in destra piena in sinistra 5 più 70, sinistra piena dosso dritto stai a sinistra ma che si salta 70, destra 5 meno aesce in destra vabbè tila 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 metti in moto nemmo Grazie a tutti.